La mediazione, eccola qua. Cos'è? Si dice attività comunque denominata, perché nel nostro ordinamento poi noi abbiamo conosciuto la conciliazione, prima si chiamava conciliazione, adesso si chiama mediazione, è la stessa cosa, solo che da noi si parlava di conciliazione perché quando nel nostro ordinamento si parlava di mediazione, si faceva riferimento idealmente alla figura del mediatore immobiliare, mediatore d'affari, quindi siccome c'era già nel nostro codice una parte dedicata a quella mediazione, si parlava di conciliazione, in realtà tutta la normativa europea poi in materia di mediazione parlava di mediation e quindi alla fine il nostro ordinamento nel decreto 28 ha fatto la sintesi e ha detto la mediazione è tutto il procedimento, la conciliazione è l'esito di quel procedimento, Cioè quando trovate un accordo si dice che le parti hanno conciliato, è un giro di parole per dire potete usare indifferentemente l'una o l'altra, per quello sentite nel giornale oggi che parlano di media conciliazione, non esiste una media conciliazione, cioè una mediazione che diventa conciliazione che vuol dire che le parti hanno conciliato quando trovano un accordo, ma è sempre in mediazione che stiamo parlando, è la stessa cosa. Chi la fa? La fanno le parti, il mediatore assiste, aiuta le parti, ma la mediazione le fanno le parti, se qui non rimangono sedute, la mediazione non si fa, non c'è la contumacia nella mediazione, o ci sei o non ci sei, puoi mandare qualcuno a farti rappresentare, gli devi dare poteri per poter firmare un eventuale accordo, ma la tua presenza è indispensabile, le altre procedure come l'arbitrato abbiamo detto non c'è questa caratteristica. Dove si fa? La mediazione io la posso fare nel mio studio, vado da un professionista che so essere un bravo mediatore, gli affido questo incarico e noi parte e controparte ci troviamo da lui, oppure andiamo presso un organismo che gestisce attività di mediazione, che vantaggi e svantaggi? Beh, è ovvio, per andare da un'unica persona bisogna che entrambe le parti si fidino di quella persona. Con l'organismo mi risolvo questo problema perché la nomina del mediatore la fa l'organismo, ha una lista di mediatori appositamente preparati per questo, incarica uno di questi. Non solo, le tariffe, le indennità di mediazione sono già predeterminate, io so già quanto mi costa, quindi non ho sorprese, invece se io vado da mediatore singolo, il mediatore singolo mi fa, me lo può fare per amicizia, ma mi chiede il suo compenso professionale in base a quelle che sono le sue indicazioni. Potrebbe fare un forfè, ma potrebbe, negli Stati Uniti si va anche a ore, a seconda della qualità del mediatore che si sceglie si va da 120-125 dollari ora a 1250 dollari ora. Stiamo parlando di mediatori che, ovviamente, per spendere quelle cifre si deve trattare anche di controversie che lo giustificano. Quando si fa la mediazione? Ah, questa è una bella cosa. L'idea che dava il decreto 28 con l'obbligatorietà era quella che la mediazione si dovesse fare prima di una causa. Quella obbligatoria? Sì, in genere, era una condizione per poter fare una causa, ma togliamo quell'obbligatoria. La mediazione quando si fa? Sempre. Prima, durante, dopo, anche con una sentenza in mano, si può mediare anche su una sentenza. Ok, io ho vinto la causa, mi dovresti 10.000 e passa euro, però ho i miei motivi per cui quella sentenza non la voglio imporre, perché mi interessa mantenere un certo rapporto con la controparte, mi interessa magari qualcos'altro, vada a negoziare con la sentenza in mano. La mediazione lo consente, non c'è nessun problema. Posso farla durante la causa, quindi tra le altre cose ci accorderemo che, trovato l'accordo, rinunceremo anche alla causa. Posso farlo anche se in causa ci sono altre persone, intanto ci mettiamo d'accordo due, tre, facciamo una mediazione tra di noi e poi continueremo la causa con gli altri. E' molto flessibile come strumento, anche a livello temporale. Guardo i tempi perché poi non voglio togliere... Allora, 5 minuti ancora e poi la parte più interessante. Andiamo a... Ecco, di mediazioni ce ne sono tanti tipi. Obbligatoria, non obbligatoria, che si fa dentro il processo, che si fa fuori dal processo. C'è una mediazione che viene fatta, la chiamano mediazione, attenzione, questa la troverete che si chiama, se ne andate a vedere in internet, la trovate conciliazione paritetica. Non è mediazione. Però viene considerata da molti come una forma particolare di mediazione. E' quella che si usa nelle associazioni di consumatori. Ad esempio la Telecom con le associazioni di consumatori, Ferrovie dello Stato con le associazioni di consumatori. Da una parte rappresentante dell'azienda, dall'altra rappresentante dell'associazione, si trovano e discutono. Loro. Quindi non c'è un terzo che fa da mediatore. Quindi non è mediazione. Però ve l'ho inserita perché tra le forme di mediazione, quando andate a cercare da qualche parte notizie, tra conciliazione e mediazione salta sempre fuori. C'è anche una mediazione giudiziale fatta dal giudice. Il nostro ordinamento prevede che in alcune fasi di alcuni processi, il giudice possa tentare una mediazione tra le parti. Si toglie l'abito del giudice, si mette l'abito, o il cappello come preferite, del mediatore e prova a mediare le parti. Ad esempio nella prima udienza, nella fase di separazione dei coniugi, il giudice dovrebbe tentare la conciliazione tra le parti. Non è cattiveria, ma è difficile riuscire a farlo. Quando nella giornata hai 80 cause scritte a ruolo, normalmente queste fasi si mettono, il giudice sta là, entra prima un coniugi e poi l'altro, ma lei davvero ha deciso di separarsi? Ma ci ha pensato bene? Sì, bene, allora firme verbale. Entra l'altro, ma lei davvero ha deciso di separarsi? Ma ci ha pensato bene? Sì, va bene, allora firme verbale. Chiuso, questo è il tentativo di mediazione. Normalmente funziona, l'ultima volta che l'ho fatto a Tribunale Venezia, era un giudice che di sé non ci perde molto tempo normalmente, ma a orologio per fare il tutto è durato due minuti. Due. Non gli ha neanche chiesto, ci ha pensato bene. Gli ha messo direttamente sotto verbali e gli ha fatto firmare. Però ha mantenuto la forma prima uno e poi l'altro. Qualcuno ci si mette, so che c'era un giudice a Treviso che si metteva i sabati mattina e si metteva lì con le coppie per cercare di fare la mediazione. Ma è ovvio che con il giudice la mediazione non può venire fuori bene, perché c'è un piccolo particolare. Lui, poi capita che magari è lo stesso a cui dopo devi andare a fare, di fronte al quale fai la causa. Quindi non gli racconti mai tutto. Se io ho un cliente che va a fare un tentativo di conciliazione davanti al giudice, non dica niente. Vedete come le telefilme, tutto quello che dice potrà essere usato contro di lei. Ecco, è così. Perché anche nel migliore del giudice non può non tener conto nella sua sentenza di quello che avrà sentito nella mediazione. Uno degli elementi fondamentali della mediazione è la riservatezza, che garantisce alle parti di poter dire quello che gli pare. Di poter fare le proposte più belle, più fantascientifiche, sapendo che se quel tavolo di mediazione non funziona, tutto quello che ha detto, verba volant, tutto quello che ha detto è come se non fosse stato detto. Non è poco. Io posso andare a sondare le intenzioni della controparte, proponendogli migliaia di soluzioni diverse, anche a mio discapito, ma positive. Ma ho la sicurezza, ho la certezza, che lui non ne potrà fare niente di queste proposte. Perché tutto quello che ci diciamo in mediazione non può essere utilizzato nel successivo giudizio. Se però il mediatore è il giudice, dico il giudizio, comunque le assentite. Quindi la mediazione giudiziale c'è, è prevista ancora come risidio del nostro ordinamento, ma funziona poco. Non è mai funzionato in realtà. Il sistema introdotto dal decreto 28, io volevo andare un po' sul ruolo del mediatore, magari facciamo così. Di questo ne parliamo, i punti fondamentali del decreto 28 della normativa sono solo questi. Cioè la normativa aveva introdotto sistema di organismi certificati presso il ministero. Un sistema di mediatori certificati a loro volta attraverso un certo tipo di formazione, fatta da enti di formazione a loro volta certificati presso il ministero. Aveva introdotto l'obbligatorietà ed è stata tolta, la riga rossa che vedete lì. La confidenzialità è stata, e questo è un elemento estremamente positivo di quella legge, forse l'elemento scritto meglio di quella legge, che sancisce in maniera chiara e inequivocabile che tutto quello che si dice o si sente in mediazione non può essere riferito fuori, non può essere oggetto di testimonianza. A meno che le parti che hanno detto o reso quelle dichiarazioni non sono loro a consentire che questo venga fatto. Primo punto. Secondo punto, il mediatore è soggetto a segreto professionale, come il prete che vi confessa, come l'avvocato con il proprio cliente, come il medico con il proprio cliente. Segreto professionale. Può opporre il segreto professionale, che nella pratica vuol dire che salvo che la questione non sia valutata dal giudice come costituente, magari un grave, il giudice sospetta che ci sia un grave reato, una grave situazione, il mediatore può difendersi, opporre al giudice sul segreto professionale. Poi valuterà il giudice se quella eccezione lo tutela oppure il giudice può dire no, guardi, la sollevo dal segreto professionale, mi dica, ma lo decide il giudice. Non lo decidono le parti. Quindi le parti hanno la tranquillità che il mediatore non potrà riferire niente. Attenzione, l'unica cosa in cui la mediazione giustamente non può prevedere è che le parti siano soggette al segreto. Le parti possono dire quello che vogliono, però se si avvalgono di un perito durante la mediazione, anche la perizia non può essere usata nel successivo giudizio. E questo non è una cosa da sottovalutare. Molti non ci fanno caso. Ma immaginate che la mia idea della mia posizione di correttezza o no dipenda, cioè il fatto di sentirmi nel giusto o no, dipenda da una perizia. Ora, se io vado in tribunale, posso scoprire durante la causa che forse quello che pensavo non era quello, perché il perito ha detto un'altra cosa. Però sono già in causa, piccolo problema, che a quel punto è tardi. Se io sono un assicuratore e devo pagare qualcosa, mi baso su una perizia, ma se aspetto di farla in tribunale e quella perizia poi può essere tardi, a quel punto mi dà torto, cosa faccio? A quel punto sono già in causa e devo pagare anche la causa. Se invece quella perizia si facesse dentro la mediazione, io posso sapere prima, dal punto di vista tecnico, se ho ragione o so torto. Se la responsabilità medica, ad esempio, per quel perito c'è o non c'è, se quella cosa è stata costruita bene o è stata costruita bene, ma lo so lì. E siccome è stata fatta lì la perizia, il giudice non lo sa, quindi io posso valutare prima come comportarmi. Quella perizia si potrà usare fuori dalla mediazione solo se le parti sono d'accordo a farlo. Se non sono d'accordo, quella perizia rimane lì, nella tomba, con tutto quello che ci siamo detti. E questo non è un vantaggio da poco nella mediazione. Tenendo presente le ultime due cose, poi ho chiuso sulla normativa, la mediazione oggi ha due grossi incentivi che li sono rimasti, che non sono stati abbattuti dalla Corte Costituzionale e che secondo me da soli meriterebbero, che molte più cause passino per la mediazione. Il primo è l'incentivo fiscale e il secondo è l'efficacia esecutiva dell'accordo. Un accordo fatto in mediazione davanti a un organismo certificato con un mediatore accreditato è un accordo che vale come titolo esecutivo. Quindi se l'altra parte non adempie io posso andare in esecuzione forzata, posso iscrivere ipoteca, posso andare a ottenere un pignoramento, sostanzialmente, faccio la semplifico molto. E' un titolo esecutivo, assomiglia agli effetti, sono simili a quelli di una sentenza. Ma è un accordo, un contratto, è un enorme vantaggio perché io nel negoziato diretto con la controparte, qualunque accordo noi facciamo, se poi l'altro non lo rispetta, io cosa devo fare? Eh ma me l'ha scritto nell'accordo, ho capito ma è un pezzo di carta, è un contratto, è impegnativo, sì, io devo andare davanti a un giudice ad accertare che quella parte ha firmato l'accordo e poi non l'ha rispettato. Quindi devo fare una causa. Se invece io a quell'accordo gli ho dato valore di titolo esecutivo perché l'ho fatto in mediazione, io non ho bisogno di passare dal giudice prima, intanto vado a farmi i miei pignoramenti, vado a scrivere l'ipoteca, poi se vuole la causa la fa lui per accertare che aveva le sue ragioni per non adempiere. Si rovescia la situazione e non è una cosa da poco. Altra cosa è l'incentivo fiscale, questo atto può essere trascritto, se noi ci mettiamo d'accordo ad esempio per un passaggio di un immobile, poi lo posso trascrivere, vado a fare autenticare le firme, è l'unico passaggio che devo fare davanti a un pubblico ufficiale autorizzato, dopodiché lo vado a registrare, ma anche se è un altro tipo di accordo, qualunque accordo che sia soggetto a registrazione lo vado a registrare. La registrazione è esente da imposte fino a valore di 50.000 euro.